buongiorno ragazzi buon festa di tutti i santi a voi dalla piramide di sale venite a vederla anche voi perché è molto molto bella sia come l'hanno sistemata e sia la visuale che sia incredibile da qui di tutto il parco delle saline spettacolo arriviamo in cima vediamo su questa vecchia montagna dove prima raccoglievano il sale dove cadde il naso trasportatore che era qui da anni 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 decenni hanno ben pensato di utilizzarla come guardate che spettacolo come attrazione di tutto il parco delle saline e qui andiamo sulle vasche verso diciamo Manfredonia le vasche più belle più lavorative e dove c'è la riserva davvero spettacolare bello 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 ci volevo salire da un po' hanno creato una bellissima attrazione arrivate da Margherita come è arrivata la casa cantoniera rossa parcheggiate qui nel parcheggio e da lì potete entrare tranquillamente buona giornata a tutti